Ciao a tutti, questo è il mio nuovo video e naturalmente non c'è Sofia perché ora è a scuola. Io sono tornata da poco e qui c'è il mio diario e qui ho un paio di disegni che posso farvi vedere. Iniziamo dalla copertina piena di adesivi, però inseriamo pure dietro con il cuore, il lato, non lascio perdere. Iniziamo, aspettate dal primo che lo prendi, no tutti questi disegni hanno una storia, questo, aspettate no, aiuta, aiuta, ecco, questo è un disegno che ho fatto tantissimo che può fare, non è molto bello, però avevo voglia di farlo. In pratica, era estate, non so se si legge, era estate e faceva molto caldo, allora ho fatto una goccia, un paio di gocce che dicono, eh, sta bene al sole perché faceva caldo, quindi con una catena da trascina via. E qui, infatti, c'è scritto, basta, non ne posso più di questo caldo. E vabbè, questo si intendeva, non penso che sia un pochino bruttino. Passiamo avanti con un altro, questo. Non è una scritta più che altro. L'onore e il rispetto, è un film bellissimo, è pazzia per quel film. Poi, fammene trovare altri. Ma poi, c'è altri, questo. Questo mi ha aiutato mia sorella a farlo, che lei fa artistico, quindi mi ha aiutato a fare questo. Lei naturalmente ha fatto tutti piccoli, io ho fatto questo qua. Cioè, allora, l'ha aiutato a farli, naturalmente, piccoli. Un altro, quando... C'era quello lì della tartaruga. Non lo trovo, non lo trovo. Eh, no, questo l'ha fatto mia sorella. Aspettate. Eh, eh. Ah, il leone ha fatto. Un altro, quello che mi aveva da fare. Poi ha fatto questo. Non vi dico che sei perché fa schifo. E ancora, sì. Ho fatto mia sorella. Lei particolare fa i miei disegni per libri. Noi, vabbè, mia sorella. Eh, vabbè, un paio di disegni ho fatto io e mia sorella. E spero che il video vi sia piaciuto. Ah, no, aspettate, c'è un altro. Ah, aspettate. Questo della tartaruga l'ho fatto io. E probabilmente mi ha aiutato mia sorella a farlo. Ho fatto quello dietro e il guscio. Io ho fatto la faccia e le zampe. Ci ho voluto tantissimo a fare questo disegno. Carboncino e varie cose. E vabbè. Spero che vi sia piaciuto. Ciao.